69, la stagione dei record. L'Inter disegna lo scudettino d'inverno dopo 2 minuti e 25 secondi. La prodezza è di Bremen. A proseguirlo non può che essere Mateus, che ha velocità e potenza, sa unire ormai stile raffinato. E il sinistro destro del 2-0 lo dimostra. Ancora Mateus trasforma. Ora è pizzi ad arpeggiare la rete numero 4 su cross di Bremen. Ed è il terzo dei tedeschi Klinsmann a richiedere la quinta dopo una punizione del principe Lothar.